Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo di come rispettare l'identità di un palo del flamenco. Prima di rispettare l'identità di un palo occorre assolutamente riconoscerla. La cosa più importante per riconoscere l'identità appunto di un palo flamenco è esattamente la stessa cosa che capita se desideriamo riconoscere l'identità di una persona. Occorre frequentarla, occorre osservarla, occorre ascoltarla, occorre capire come si comporta, riconoscere le sue qualità e da lì partire. Partire proprio all'esplorazione di questa persona. Occorre appunto farla parlare e ascoltare, come dicevo, quello che dice. La stessa cosa accade con il flamenco. Conoscere un palo è fondamentale, ma come faccio a conoscerlo? Beh, banalmente, ascoltando tanto. Oggi è anche molto facile perché è sufficiente digitare il nome di quel palo che vogliamo esplorare su YouTube e ascoltare tutta una serie di esempi. Se non abbiamo magari una grande familiarità con il flamenco potrebbe anche capitare che questi esempi che stiamo ascoltando non siano tanto buoni. Come già ho detto tante volte, su YouTube è abbastanza facile che le persone pubblichino qualunque cosa, non necessariamente cose di buona qualità. Però è un buon sistema per conoscere, per capire. Quanto più ascolto un palo flamenco è tanto più lo capisco. Comincio ad avere familiarità appunto con queste sonorità. Se però capisco che cosa ascoltare e come, mi basterà forse ascoltare un po' di meno. Mi devo orientare primariamente quando ascolto sulla linea melodica del cante perché ricordiamoci sempre che è da lì che nasce il flamenco, proprio dal cante. Quindi se voglio identificare un palo devo ascoltare per forza il cante e assolutamente imparare a memoria la linea melodica. Non c'è un'altra scelta. Quanto più identifico quel palo, quanto più imparo la memoria e tanto più mi sarà facile riconoscere l'identità. È però complesso riuscire a isolare, diciamo, la melodia del cante dall'orchestrazione. Ogni palo del flamenco ha una sua emozionalità caratteristica e ben precisa. Si somigliano alcuni tra di loro. Per esempio, se ascoltiamo una soleà por buleria, che è come una struttura musicale soleà portata ad una velocità maggiore o una struttura buleria portata a una velocità minore verso la soleà, per un vecchio inesperto, la soleà por buleria è assolutamente sovrapponibile a una cagna, a un polo, a una bambera. Ma si fa una grandissima confusione. Invece ogni palo ha la sua specificità, la sua caratteristica. Il fatto di cambiare la melodia significa cambiare proprio il contenuto emozionale della musica. Non si può immaginare che io cambio la melodia, però la musica rimane esattamente identica a se stessa dal punto di vista emotivo. No, non può essere. Quindi il corpo risponderà a quel cambiamento di suono. E se io sono un cantaor, per esempio, e devo cantare la cagna, che mi richiede, o più che altro mi permette, meglio ancora, di allungare tutte le mie frasi, e quindi un verso può durare quanto sono capaci di farlo durare ai miei polmoni. Mentre se sono in una sole a propuleria o puleria a porsole a, un verso corrisponde ad una frase ritmica, ad un compass. Non posso farlo durare due compass. Quindi se io posso cantare un verso spalmandolo su un tempo più lungo, significa che avrò tantissimo spazio per esprimere i miei silenzi, la mia espressività, cambiare il volume di quello che sto cantando, inserire tutta una serie di ornamenti assolutamente personali che rendono la mia emotività molto più ricca. Quindi sicuramente l'espressività di una cagna è molto più intensa di quella di una sole a propuleria. Poi ci sono cose che sono state fatte di più e cose che sono state fatte di meno, cose che sono state nominate di più e cose che sono state nominate di meno, ma se tu prendi 500 cd di flamenco, editi fino al 1995 o anche fino agli anni 2000, molto spesso i palos vengono chiamati con dei nomi che a volte sono un po' di fantasia e non sempre sono precisi. Da lì in poi la flamencologia si è evoluta e quindi magari anche i musicisti cercano di essere più precisi, magari i cantaores hanno cominciato sempre di più a fare il conservatorio e lo stesso i chitarristi, quindi a conoscere di più anche la teoria del flamenco e conoscendo di più la teoria del flamenco sanno distinguere in maniera più precisa tra un palo e l'altro. Ma prima molto spesso una musica molto simile veniva magari chiamata in tre o quattro modi diversi finché non si è proprio stabilizzato tutto questo. Come si fa quindi a mantenere l'identità di un palo? La cosa più facile è sempre partire dal cante perché è il cante che esprime l'identità di tutto. Sarà tutto molto più facile quindi se ascolto molto bene il messaggio del cantaor sento dove ha bisogno di respirare e respirerò anch'io nello stesso punto se lo sto accompagnando con la mia chitarra o con il mio baile e tutto funzionerà meglio. Se il cantaor per esempio sta allungando la sua frase e sta creando una serie di melismi e di decorazioni e sto ballando eviterò di fare tantissimi suoni con i miei piedi proprio in quel momento. Cioè gli lascerò il suo spazio, gli darò il mio silenzio per lasciargli la parola. Lo stesso se sono un chitarrista o se sono un percussionista. Il cantaor sta cantando proprio in quel momento in cui sta facendo le sue decorazioni io cosa faccio? Alzo il volume della mia chitarra ma lo copro. Lasciargli lo spazio. Questa in generale è una regola umana da seguire non è una regola specifica del flamenco però nel flamenco va sempre tenuto presente che ciò che genera tutti i vari palos tutti i vari stili è sempre il cante. Intorno al cante si organizza il flamenco sempre. Ricordiamocelo perché molto spesso ci confondiamo. Noi che studiamo baile flamenco pensiamo che la prima cosa siano i movimenti o i ritmi fatti con i piedi. Chi studia la chitarra flamenca pensa che le prime cose più importanti siano sempre le corde della chitarra i suoni, gli accordi, gli arpeggi. No, no. La prima cosa importante è il cante. Sempre. Questa esplorazione delle emozioni che viene fatta dal cante è un'esplorazione molto vera perché la voce umana l'ho già detto in altri podcast è il veicolo emozionale più forte anche perché è il suono a cui più facilmente siamo abituati da tutta la nostra vita. L'abbiamo sentito tanto, tantissimo durante tutta la vita prenatale. Quindi il canto ci colpisce di sicuro. L'uso della voce ci colpisce di sicuro. Anche l'uso della nostra stessa voce ci colpisce di sicuro. Ricordiamoci sempre che alcuni palos a volte anche più di un palos o due come ad esempio nel caso delle cantignas si somigliano tantissimo tra di loro hanno un'atmosfera davvero molto molto simile e a volte gli stessi musicisti o i bailaores o addirittura gli stessi cantaores non li conoscono così profondamente magari non hanno esperienza abbastanza di ognuno di questi palos per identificarne proprio l'identità al 100%. Quindi questo ci confonde un po' e loro stessi li fondono insieme e li confondono. Questo ci può fuorviare. Allora come faremo a crearci una competenza? Ebbè ascoltare tutto ciò che possiamo ascoltare è l'unica chiave creare un'esperienza il più ampia possibile di tutto ciò che è l'ascolto del cante flamenco anche di palos che sono abbastanza simili tra di loro. Piano piano in altri podcast ti racconterò somiglianze e differenze tra palos che si assomigliano ma evidentemente non pretendo di essere l'unica tua fonte di ispirazione ci mancherebbe altro andare ad ascoltare cercare di capire essere curiosi esplorare questo è ciò che bisogna fare per conoscere Sono Sabina Todaro mi occupo di flamenco e di musiche e danze del mondo arabo dal 1985 dal 1990 insegno baile flamenco a Milano e un lavoro meraviglioso sull'esplorazione delle emozioni attraverso le danze e le musiche del mondo arabo che ho chiamato lirico la rap dance quando insegno flamenco per me è molto importante che gli allievi capiscano esattamente l'identità del palo che dovranno interpretare non mi interessa per niente che imparino a memoria dei passi dei movimenti dei suoni cioè che imparino la mia coreografia non mi interessa mi interessa che capiscano l'identità di quel palo che capiscano lo spirito l'emozione che quel palo esplora per fare questo spiego loro che cosa ascoltare e come ascoltare la prima cosa che dovranno fare è ascoltare con il corpo cioè ascoltare che cosa la produzione melodica di quel cante attenzione del cante non dell'orchestrazione suscita nel loro corpo sì sì proprio ascoltare con il corpo l'emozione fisica che la musica procura ogni volta che devo proporre un palo flamenco ai miei allievi quando scegliamo che cosa interpretare faccio ascoltare qualche esempio e regolarmente gli allievi rimangono molto affascinati dall'orchestrazione da come suona la chitarra dal fatto che ci siano magari altri strumenti di accompagnamento un violino un flauto che propongano delle melodie interessanti coinvolgenti anche molto spesso commoventi e si fa fatica a scindere effettivamente la melodia del cante dall'accompagnamento di riferimento soprattutto per un orecchio che non è tanto educato al flamenco quindi identificare come si comporta un palo non si può fare ascoltando solo un brano o due perché magari proprio in quel brano l'orchestrazione prende un po' il sopravvento nella nostra emotività quando finalmente abbiamo ascoltato tante volte un certo palo e lo abbiamo identificato abbastanza chiaramente sappiamo qual è l'emozione che provoca dentro di noi ciò che succede successivamente sarà che tenderemo ad assimilare a quello che conosciamo altri palos come mai ma questo succede sempre il nostro cervello è fatto così quando conosciamo qualcosa quando abbiamo una categoria abbiamo sempre la tendenza ad infilare dentro a quella categoria tutto ciò che ci assomiglia assimilandolo a quello che già conosciamo come sempre dico è molto importante anche fidarsi delle proprie sensazioni fisiche quando sento qualcosa nel mio corpo ogni volta che ascolto un certo palo del flamenco mi posso fidare di riconoscere quella sensazione dentro di me anche prima ancora di riuscire a dare un nome a quella sensazione o a definirla con chiarezza fidiamoci di questo tutto sommato nella storia della musica nella storia dell'arte l'emozionalità è stato un filtro molto grande per definire stili generi anche correnti correnti musicali correnti artistiche fidiamoci di questo è molto strano che le persone che ballano molto spesso non si fidano nemmeno del loro stesso corpo che dovrebbe essere il loro strumento di produzione dell'arte e quindi anche di ricezione degli stimoli artistici eppure viviamo in una società nella quale il corpo è stato completamente messo da parte come se fosse sempre sbagliato come se non avesse capacità e invece no ce le ha per cui cerchiamo di sentire che cosa sente il nostro corpo quando ci identifichiamo con una certa melodia e un trucco che insegno sempre ad utilizzare ai miei allievi è quello di cantare ovviamente cantare il flamenco è di una difficoltà tremenda già l'ho detto moltissime volte e continuerò a dirlo canteremo male ma certo canteremo malissimo però ci infileremo dentro la melodia e porremo attenzione a come la melodia funziona e questo ci aiuterà ad identificare proprio lo spirito di quel palo e ad identificare lo spirito di qualche altro palo che ci somiglia ma che non è esattamente la stessa cosa cantando entreremo più fisicamente a contatto con la melodia e ci sarà più facile capire poi ci sono persone che non hanno mai cantato o che pensano di essere stonate o che magari sono stonate ma questo non significa non provare almeno dentro di sé a cantare se lo fai con la tua voce è sicuramente meglio che farlo dentro di te soltanto in silenzio questo è poco ma certo affronta la melodia del cante cerca di impararla a memoria esplorala con la tua voce senti che cosa succede dentro di te quando canti e che cosa succede di conseguenza quando balli è molto interessante verificare che se io sto producendo un suono con la mia voce e provo a muovermi non posso far altro che creare dei movimenti molto molto simili a ciò che sto cantando la voce guida il corpo e il corpo stesso guida la voce perciò se mentre sto ballando canto invece di contare è quella piccola letterina tra la A e la O che fa la differenza sono ovviamente provocatoria come al solito dicevo se canto anziché contare mi avvicinerò alla musica se conto beh i conti non stanno dentro la musica stanno in un livello molto più intellettuale molto più astratto molto meno legato alla melodia e al suono non ci resta che buttarci provare a cantare provare a immergerci completamente all'interno della melodia del cante e vedere che cosa succede nel nostro corpo